Seconda riunione del tavolo dell'unità di crisi in prefettura presieduto appunto dal prefetto Chiara Armenia. Tra gli argomenti trattati ovviamente quello dell'arrivo dei cittadini ucraini a Kaltanissetta sono già 46 coloro i quali hanno preso contatti con tutte le strutture per le dichiarazioni apposite e per dimostrare la loro presenza a Kaltanissetta. Intanto il prefetto durante la riunione ha sollecitato i sindaci rispetto alle procedure e ai moduli da scaricare per le indicazioni necessarie per gli adempimenti da parte degli ucraini che giungono nel territorio italiano. Secondo argomento trattato quello dal punto di vista sanitario che riguarda sia le vaccinazioni i cittadini saranno vaccinati coloro i quali ancora non sono stati sottoposti e coloro i quali sceglieranno di farlo. Intanto il prefetto ha sollecitato un incremento delle vaccinazioni e anche un interesse da parte dei medici di famiglia nell'accompagnamento alla vaccinazione di quei soggetti ucraini che sono arrivati in città. Intanto nei vari paesi l'ASP sta provvedendo a incrementare il numero di sanitari per le apposite vaccinazioni così da alzare la soglia vaccinale del territorio.